Si chiama studio di microzonazione sismica, fa parte delle attività di prevenzione dei rischi sismici, sanciti con legge 24 nel giugno 2009, pochi mesi dopo il sisma dell'Aquila. È Chieti a presentarlo grazie a un finanziamento della regione pari a 32.000 euro. Chieti si dota di uno strumento fondamentale per la successiva redazione del piano regolatore, è uno strumento che è stato effettuato da due professionisti di Chieti, il dottor Rossetti e il dottor Mazzei, che hanno collazionato tutto ciò che sono stati in questi anni, gli studi geologici sul territorio, in più con una loro conoscenza approfondita, in più si sono dotati di tutti quegli studi di vulnerabilità sismica che sono stati approntati dalla presente amministrazione tra il 2010 e il 2013 e che erano dotati a loro volta di studi geologici. Lo studio viene calibrato su un ipotetico sisma, la cui aspettativa si aggira sul 5,3 gradi della scala Richter. Da questo studio ora si procederà con il nuovo piano regolatore generale, tenendo in considerazione i risultati ottenuti e soprattutto le aree considerate sensibili. Un miglior criterio edificatorio che va appunto nel seguire la qualità e la sicurezza della costruzione su tutto il territorio, che purtroppo nel corso dei decenni ha già subito alcune alterazioni irreversibili per quanto riguarda la colina Teatina. Chieti è sottoposta a studi da anni, è risaputo che è un territorio che ha una sua debolezza idrogeologica e in questi anni si è cercato appunto anche con le imposizioni di legge di avere una salvaguardia migliore.